è un bel concetto Davide le difficoltà aiutano noi umani voi umani ragazzi secondo me le difficoltà è una bella tavolata stasera il dottor Davide commercialista un applauso a Davide ragazzi perché insomma già oggi è dura per lui è dura è stata dura però io l'hai fatto come tutti quanti e le difficoltà sono per me sono il culo degli uomini se se le difficoltà saremmo dei sottosviluppati ma se uno mi piace le difficoltà sono la base sono la base del cioè dell'evoluzione alla base del sono alla base questo l'abbiamo capito ma sono la fortuna dell'essere umano se noi non sapessimo di avere se noi avessimo certezze se tu sapessi che se ti schianti bacchina non mori vai a treppiope fisso io ci vado uguale magari però so che posso morire giusto quindi le difficoltà sono ci lamentiamo delle difficoltà che sono la nostra fortuna l'incertezza fa l'uomo consapevole e equilibrato le difficoltà sono la base dello sviluppo della persona esatto quindi fanno parte della costruzione della persona quindi per migliorare abbiamo bisogno delle difficoltà tu dovevi migliorare un sacco io ho un sacco tu dovevi migliorare la cifra che hai fatto dell'altra vita la lavi idee io ho fatto il cazzo della vita eh ho capito però t'hanno messo una bella salita davanti eh però io io ringrazio perché c'ho tanto da costruire c'hai tanto da costruire l'applauso non va chiesto in questo caso è che quando ti fanno sentire a merda manca applaudi perché questo ti fa sentire a merda ti metterete la sbatte in faccia capito? eh io ho imparato molto da te ho imparato come essere stronzi io ho imparato l'amicizia e qua ti ha messo capo boom boom e io ho imparato un sacco di cose da te perché già l'ho detto una volta non te la menti mai ti ho sentito una volta dire ogni tanto snazzico perché sono prigioniero di sto volta una volta in cinque anni potevi dire più forte potevi sembrare più umano e invece noi ci lamentiamo per il tra perché te la menti te? mamma mia perché te la menti di solida? te? pure pure io si sa bene? sa bene? sa bene sa bene a parte il vestire al ciale no solo di quello no oddio in questo periodo si ecco Marco sei bravo no? Simona? tutto tutto vabbè dei clienti che non pagano dei clienti che non pagano dei clienti che non pagano di chi stiamo a parlare? del nulla cosmico ragazzi vivete tranquilli e non si è stata rompiti qui no? tanto no per chiusura viva la vita tutta la vita buona serata ciao ma a chi lo dici buona serata? a tutti a davide è uno specchio questo a tutti a tutti a me stesso un po' tipo un po' figarra e piccoli questo vabbè buona serata ciao imparate questo è figurante davide calzate è finito il video è un po' figa è un po' figa è un po' figa